Enio e Sheila, oggi Chiara è diventata mia moglie, facendomi l'uomo più felice del mondo. Voglio, se voi sappiate, le sarà per sempre nel mio cuore. Mi avete accolto nella vostra famiglia molto prima del nostro matrimonio, ma oggi è ufficiale. Ovunque casa sarà per noi, lo sarà sempre anche per voi. Se stiamo qui, è perché stiamo portando l'uomo di questo sacramento che si tratta di oggi. Perché stiamo anche qui per aiutare l'uomo di questo buono. A loving e forte famiglia è una luce che farà più bello il mondo. Abbiamo questi luce oggi. Abbiamo forti, solidi, fattigli famigli. E questo è un problema che io sono felice di aiutare a vostri spettatori e aiutare a vostri spettatori e aiutare a vostri spettatori. Perché, come fun come la tua famiglia è, ti non ho visto la tipa di l'uomo di tutte le belle e belle cose che il Signore è preparato. E quindi, andate, bravi e gioia, e questo buono mistero, questo bello sacramento che ti sono, che ti sono, che ti sono, oggi, e il Signore, che ti abbia benvenuto, questo è il Signore. I call upon these persons here present to witness that I, Patrick Fabian Daly do take thee Chiara Francesca Giordano to be my lawful wedded wife to have and to hold from this day forward for better for worse for richer for poorer in sickness and in health to love and to cherish till death do us part so so Before I say another word, I just want to say, doesn't my wife look absolutely stunning today? Standing opposite this beautiful woman in church today, reciting those vows, it would have been impossible not to have felt the way I felt, like the luckiest man I like. I don't know. 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 I don't know.